Tartaruga Ninja numero 18 della IDW, Scontro Urbano. Continuo la mia retrospettiva sui piccoli brossurati ormai introvabili delle Tartaruga Ninja che sono edite in Italia da Panini Comics e che potrete finalmente trovare nella ristampa in formato deluxe che è fuori in questo momento sul sito Panini e in tutte le fumetterie. Mi riferisco al Pizza Box che contiene i primi 12 numeri. Io ovviamente sto parlando del numero 18, quindi è ovvio che nel secondo tomo del Pizza Box si parleranno degli altri 12 numeri. Quindi se siete curiosi, se non volete aspettare il secondo Pizza Box o se non avete intenzione di prenderli per mille ragioni e volete un piccolo riassunto, eccomi qua. Wabalabadabab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Fumetti e nella rubrica Tartaruga Ninja. Se non l'avete ancora fatto, se è la prima volta che seguite questo mio canale, vi chiedo se volete di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che hanno una grattugia in casa e si vestono da shredder e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo numero, di questo video e di questa riedizione delle Tartaruga Ninja e scrivetemi qua sotto se avete preso già il primo tomo del Pizza Box e se vi piace. Vi ricordo anche di seguirmi sugli altri miei social, tra cui Instagram e Twitch così potete sapere quello che faccio oltre a YouTube, quando lo faccio, dove lo faccio. Questo numero 18, devo dire, dopo gli ultimi tre numeri che ho recensito, che ho riassunto, è forse uno di quelli che mi piace di più. Non perché io non ami le side story, no, in realtà non amo le side story, non amo i flashback, però ecco, nel numero 14, 15, 16, adesso non ricordo per quanti numeri è imperversato, no, tutto il flashback dei vari comprimari, sono stati approfonditi dei temi molto importanti su dei personaggi e li ho apprezzati anche davvero tanto, mi è piaciuta tutta l'origin story antica di Shredder, di Oro Kusaki, mi è piaciuto l'origin story di Baxter Stockman, di Krang, sono stato felice di vederle, però ecco, io sento sempre il bisogno che la storia principale vada avanti, scusate, un errore fantoziano. In questo numero, anche se in realtà c'è una piccola side story, ma si fa perdonare tantissimo, perché è disegnata da Kevin Eastman, uno dei co-creatori delle Tartarughe Ninja, e poi c'è la storia principale che è disegnata da Mateus Santolouko, spero di pronunciarlo bene, perché è a mani basse uno, se non il disegnatore preferito di questa collana della IDW. Come disegna lui le Tartarughe Ninja? Io le adoro, non so farne a meno. Ora vi mostro entrambi gli stili di disegno, poi parliamo un po' della storia, perché appunto mi piacciono entrambi. Ecco, questo è il classico stile di Kevin Eastman, quindi se qualcuno ha la collezione originale delle Tartarughe Ninja, quella della Mirage, quella dei primi anni, quella del 1984, riconoscerà lo stile. E qua abbiamo una fantastica unione dello stile di Kevin Eastman della Mirage, unito ai colori, i colori che tra l'altro sono i colori che sono stati adottati dal cartone, ma sono stati adottati in un certo senso anche dalle action figure, che ci tenevano un po' a distinguere i colori della pelle, dei vari verdi delle Tartarughe. L'unione, il connumio di queste due cose è spettacolare per un fan della vecchia guardia come me, è davvero una gioia per gli occhi, una gioia per gli occhi e anche una storia davvero molto bella. Vediamo, una storia che inizia così, senza troppi fronzoli, le Tartarughe Ninja sono in giro a pattugliare le strade di New York, sentono un pochino il tumulto che sta per arrivare, i piccoli crimini sono sempre più radi, ma aumentano i crimini più violenti, sta per arrivare una guerra tra bande tra il clan del piede e il clan dei francesi Savat che vogliono appropriarsi delle strade e in mezzo ovviamente ci sono i nostri eroi. In tutto questo dal nulla compare un nemico mascherato con un aspetto un po' strano, cappuccio una maschera di quelle di plastica da supermercato, che sfida le Tartarughe Ninja, le vuole affrontare, le prende anche in giro, quindi le tocca sia sul piano dell'insicurezza, ma le batte anche a mani basse, con degli stili di arti marziali molto diversi tra loro, che vanno dalle arti marziali filippine alle arti marziali appunto francesi, proprio per destabilizzare le quattro tartarughe adolescenti. Oltre a combatterli e abbattere le tartarughe, questo nemico mascherato continua a provocarle, dicendo che se non verrà battuto andrà dal loro padre, dal loro rifugio, conosce il rifugio delle tartarughe ninja, il nuovo rifugio che è in questa chiesa abbandonata, da quando appunto hanno lasciato le fogne perché erano esposti, e quindi le tartarughe ninja sono molto preoccupate e molto anche coinvolte diciamo in questo scontro e quindi cercano in ogni modo di sopraffare questo nemico, ma vengono puntualmente battute. Vediamo due o tre scontri molto veloci in cui lui si prende in giro appunto le tartarughe, per poi scoprire, una volta arrivato appunto alla chiesa abbandonata, che questo nemico mascherato altri non è che il maestro Splinter medesimo, il maestro Splinter che ha fatto questo, diciamo, questo inganno ai propri figli proprio per fargli capire che lui ha insegnato loro a eccellere nelle loro arti marziali, nella loro disciplina, nella loro arma principale, ma così come loro hanno imparato a essere maestri della loro arte, e devono anche imparare che il loro nemico non sarà così prevedibile, non avrà lo stesso stile di combattimento sempre, potrebbe cambiare, potrebbe non essere leale, e oggi gli ha dato una prima vera lezione di com'è il combattimento su strada, il combattimento là fuori. Quindi sì, è una side story, ma è legata indissolubilmente alla storia principale, ed è per questo che mi piace molto leggere una storia del genere, oltre al fatto che ci sono i disegni del creatore, di uno dei due creatori delle tartarughe ninja. Mentre nella seconda storia vediamo appunto come Shredder si senta, tra virgolette, minacciato dal clan dei Savat, ma al suo fianco ha finalmente la strega Kitsune, che ha ritrovato, grazie al professor Miller, nel finale della prima storia. Vedete qua è ancora disegnata da Miller, è solo un piccolo accenno finale. Nella seconda storia Kitsune Shredder, galvanizzato dalla sicurezza che gli dà questa strega antichissima, vuole fare una mossa con i Savat. Ciò nonostante tende un agguato a una delle tante ronde che Raffaello e Casey Jones fanno insieme per rapire Casey Jones, che verrà usato appunto come esca per una trappola, e finge di rapire anche Raffaello per, in realtà, per mandarlo poi a avvisare i suoi fratelli. Comunque Casey e Raffa stavano nel pattugliare e stavano osservando il padre di Casey, che nonostante la strigliata da parte di Splinter in qualche numero addietro, continua ad attaccarsi alla bottiglia. È molto importante che sappiate questa cosa, cioè che nonostante la sgridata, anche forse troppo violenta per far riprendere un tossico, un alcolista dal suo vizio, nonostante questa strigliata, il padre di Casey continui a bere. Ma è molto importante perché? Perché presto ci sarà qualcosa che lo farà scattare, che lo farà cambiare. Questa cosa è il fatto che appunto Casey viene, in un certo senso, preso come esca, e nonostante sia stato tramortito e sia praticamente incosciente, Shredder, che li attende al molo, prenda un Casey Jones del tutto privo di forze, privo quasi di sensi, e lo trafigge con uno dei suoi pugnali dell'armatura. Quindi praticamente accoltella un uomo totalmente inerme solo per provocare una reazione del clan amato, quindi delle tartarughe ninja, che stavano cercando di osservarlo dai grattacieli per avere un vantaggio tattico. Però questa mossa, questa scena della pugnalata Casey Jones ovviamente non può passare inosservata, non può non far scattare le ire funeste di Raffaello. Raffaello, questa è forse per me una delle storie migliori che inquadra il carattere di Raffaello, mostra quanto lui possa essere impulsivo se viene toccato nel vivo, se gli viene toccato uno dei suoi affetti. Raffaello in questo numero è disegnato egregiamente, traspare tutta la sua rabbia cieca, la sua furia, la voglia di uccidere Shredder per quello che gli ha appena visto fare inerme, ed è fermato addirittura dal maestro Splinter in una ritirata tattica. Scopriamo però che tutto questo, tutto questo ambaradam, in realtà è servito per far arrivare le tartarughe ninja allo scoperto, distrarle e rapire Leonardo. Perché rapire Leonardo? Se vi ricordate in qualche video addietro era chiara l'intenzione del maestro Shredder di voler avere Leonardo come suo secondo in comando nel clan del piede, come suo Jonin. Quindi tenete presente che c'è Karai, la sua nipote, che dovrebbe essere la sua Jonin, che ha eseguito questo ordine con molta rabbia, con molta malvoglia di prendere un nemico per farlo diventare quello che vorrebbe diventare lei. Quindi c'è anche questo aspetto da tenere molto presente. Quindi ecco, si vedrà sicuramente nel numero 19 quello che faranno Leonardo per cercare di farlo diventare Jonin del clan del piede. Quindi ovviamente gli faranno una sorta di lavaggio del cervello, probabilmente grazie anche al ritorno della strega Kitsune. Questa cosa, questo fatto che Casey Jones è stato brutalmente pugnalato dovrebbe in teoria smuovere il padre di Casey dall'alcolismo e fargli cambiare totalmente strada, vita. Non per forza in maniera migliore, ma lo vedremo nei prossimi numeri. Il prossimo numero ovviamente è il numero 20, dovrebbe uscire settimana prossima, ma tenete presente che il 28 luglio esce il numero della serie regolare di questi piccoli brossuratini di cui io vi sto parlando, che è il numero 55. Quindi se c'è modo, se riuscirò a parlarne già, ne parlerò, altrimenti settimana prossima parleremo del numero 20 e poi parleremo del numero 55. Mentre il numero 56 uscirà a settembre, quindi ci saranno queste due uscite. Non so se nel frattempo ci sarà anche l'uscita del secondo pizza box, ma non credo dovrebbero passare tre mesi tra uno e l'altro. Comunque noi continueremo a sentirci ogni settimana, salvo imprevisti. Io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video. Come sempre, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.